Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzaku e io sono Tatsuna. Allora, patti chiari e amicizia lunga. Napoli Como. Visto come l'ho detto bene? Como. Ma che c'è secco Cutrone? Ma stai scherzando? Ragazzi, segnalatelo colpa di Tatsuna quando Cutrone farà tripletta perché io non ho parlato proprio. Già ti ho detto che per me, guarda, quasi quasi al fantacalcio perché ce l'ho al fantacalcio, quasi quasi lo metto titolare volutamente perché so perfettamente che non farà niente se io lo metto titolare. Per il bene del Napoli, per il bene della mia squadra io lo metterò titolare e state tranquilli, non farà niente, anzi si farà espellere. Guarda come te lo dico. Guarda come te lo dico. Vabbè, chi l'è scarsa? Però mi sembra pure esagerato. E questo invece è Tatsuna che sta cercando di bilanciare il mio sortileggio. Cioè io voglio dare la certezza che Cutrone non farà niente e lui sta cercando di riportare tutta la normalità perché gli piace. Vabbè, comunque. Ma ci sono altri giocatori che sono più... Amicizia lunga, patti chiari e amicizia lunga. Como, dobbiamo giocare contro il Como. Napoli-Como, queste dovrebbero essere le formazioni. Ti danno il Napoli praticamente con la stessa identica formazione perché è quella la preferita di Antonio. Ed è anche probabile che sarà questa. Cioè, sinceramente, non ci sta neanche un ballottaggio, probabilmente. Forse proprio se la vogliamo andare a forzare. Perché comunque, sentendo la conferenza, se non l'avete vista, andatela a recuperare. Abbiamo fatto anche la reaction. Ha parlato bene di Gilmour al posto di Obotica, però sinceramente la vedo proprio una percentuale minima. E vabbè, sempre il solito ballottaggio. Politano-Neres, anche se Politano, secondo me, stravincerà anche in questo ballottaggio. E forse Olivera-Spinazzola, che magari c'è un pochino più... Però anche lì probabilmente sceglierà di nuovo Olivera. Perché sembra che ad Antonio Conte piaccia molto di più. Dall'altra parte abbiamo il Como con la sua formazione classica. Cutrone, Fadera, Pazze e Strefezza. Non c'è bisogno che lo dico io, perché chi sta seguendo un pochino il campionato del Como, sono quattro giocatori che stanno facendo il devasto. Sono molto in forma, tutti e quattro. Perrone e Sergio Roberto pure stanno in una buona forma e stanno facendo vedere di cosa sono capaci. La difesa d'Ossena-Kempf. D'Ossena a me piace tantissimo, ma pure Kempf è fortissimo. Quindi due difensori centrali che pure sono tanta roba per quanto mi riguarda. Giovani e forti e sono anche in forma. E perfino i terzini e il portiere stanno bene. Quindi in toto stiamo parlando di una squadra che sta proprio bene. Dalla difesa all'attacco. Al 100%. Quindi sicuramente partendo da questo presupposto ci aspetta una bella gara difficile. Sia sulla carta sia in pratica. Perché probabilmente non sarà facile portare a casa i tre punti. Anche se giochiamo nel nostro stadio. E nel nostro stadio comunque quest'anno rispetto all'anno scorso stiamo andando parecchio bene. E' un po' presto per dirlo, però ci sta che tu l'abbia detto. Io lo dico. Non me ne fai. E' coraggioso ed è anche giusto che sia così. Se non vi è tirato peraltro Folorusio è ancora fuori. Però siamo tornati ai tempi in cui dicevamo, ah ma dell'allenatore la formazione è prevedibile. Purtroppo sì ragazzi siamo tornati a quel punto. Però quantomeno lo spettacolo che dovremmo vedere questa volta al Maradona dovrebbe essere bello. Dovrebbe essere soddisfacente. Se anche il Napoli dovesse fare una partita simile a quella fatta con la Juve o con il Monza. Dall'altra parte è una squadra che non le manda a dire che cerca sempre di costruire il gioco. Quindi male che vada. Loro cercano di imporsi. Noi andiamo in contropiede. La partita dovrebbe essere un minimo piacevole. Peraltro ci sono molti giocatori che a me interessano. Quindi mi fa piacere vederli come pazza e perrone. E poi soprattutto siccome io parlo degli altri perché Quindi c'è poco che posso raccontare. Mi auguro di vedere nel secondo tempo sia Perché solo là me li posso dire probabilmente. Gilmour e Neres che io metterei titolare peraltro nella mia formazione. Però tutto sommato è una partita che io aspetto gradevolmente. Dai. Allora diciamo che il Como probabilmente verrà a fare Vabbè nella filosofia di Fabregas comunque almeno fino a questo momento abbiamo visto comunque una squadra che sì quando si è trovata anche contro squadre Forti comunque vuole avere il pallone molto spesso tra i piedi. Quindi io mi aspetto una squadra che ci proverà a fare tanto col stesso palla quindi probabilmente si scoprirà pure. Dovremmo essere bravi nei duelli individuali perché probabilmente vedremo strefezza contro Olivera molto spesso. Vedremo anche a centrocampo per Ron e Sergio Alberto comunque sono due giocatori che possono ovviamente palleggiare e anche fare ammazzate bene. Però noi comunque ci difendiamo bene con lo bot che non chissà eppure con Scott. E poi probabilmente la chiave sarà proprio Kvara contro Wanderbroiden. Come cacchio si chiama? Wanderbroiden. L'unico giocatore del... Ah quello che deve essere sì. Wanderbrempt. L'unico giocatore del Como che... Non mi... È quello che meno mi piace in tutta la rosa. Però comunque io mi aspetto un Kvara che almeno dal suo punto di vista siccome probabilmente sarà un uno contro uno proprio perché il Como secondo me si scoprirà abbastanza e lui sarà la chiave. Dall'altra parte Politano ma con Alberto Morino e comunque non spicca per doti difensive può essere pure che riuscirà a fare qualcosa. E dovrà vedere... Dovremo vedere Romelu come se la caverà contro Dosseno e Kemp perché sia a livello aereo che fisico sono due bestie. Cioè sono un po' forti quindi... Io però sottolineerei la tua trascuratezza nel fare un commento a caso cattivo nei confondi di Wanderbroiden 22enne belga che sicuramente mocio metta a chilo servizi per questo motivo. Ragazzi ma io non è che posso conoscere tutti i giocatori al 100% ci sarà sempre... No ma io ho detto... Allora io tra tutti i giocatori... Mentre gli altri conosco proprio bene Wanderbroiden l'ho scoperto in queste sei giornate del Como quindi ovviamente c'è un meno considerazione nei suoi confronti mi sembra anche obvio. Sì sì ma sarà una bella sfida 77 contro 77. No allora io dico la verità c'è una cosa del Como... E se lo dici ti faccio vedere anche la tua formazione così subito dopo dici anche che formazione metteresti. Eccola qua. C'è una cosa del Como che mi diverte. Cioè che una delle sue tra virgolette più grandi debolezze in questa epoca del calcio non è una debolezza perché non sappiamo più sfruttarle. Noi calciatori moderni mi ci metto dentro perché penso che il Como sia la squadra un po' che si è fatta superare di più una delle squadre che subisce più dribbling soprattutto nell'uno contro uno perché giustamente essendo una squadra che cerca molto da attaccare si ritrova spesso in situazioni di uno contro uno. E non hai i giocatori migliori per affrontarle ma poi soprattutto fa tanti falli in zone pericolose tipo presso la lunetta dell'area di rigore presso i primi 30 metri di campo i loro primi 30 metri di campo. E se ci fossero giocatori bravi nelle punizioni probabilmente sarebbe stato purgato anche di più il Como ma siccome viviamo in un'epoca in cui i calci di punizione ma in generale i calci piazzati non sono arte dei calciatori moderni addirittura si sta perdendo pian piano penso che ve ne siete accorti tutti anche la pratica del tirar bene i rigori. Quindi diciamo che per il Como si profila una stagione in cui questa cosa se le potrà permettere alla lunga perché non ci sono molti giocatori che sanno fare punizioni importanti. Vai Cliccia vai vai Cliccia. Ditto questo no la mia formazione è quella con McTominay che fa in realtà più la mezza da sinistra che il trequartista muro però mi piace il ruolo che gli ha dato conto fino a questo momento scelgo ancora Olivera al posto di Spinazzola perché Spinazzola tena la SLA e quindi non vorrei rischiarlo. Non gli passa mai. Va bene no gli passa quando entra nel secondo tempo poi gli ritorna a fine partite quindi ricomincia il giro. Neresh a destra io penso che sia quasi un obbligo perché ripeto come ho detto nel video che abbiamo fatto su Neresh e Politano non è una questione di chi deve giocare perché è più forte ma deve giocare chi sta meglio. Politano mi ha fatto una bella prestazione col Monza viene da diverse partite cui non mi è piaciuto mentre Neresh fa sempre bene ha sfiorato addirittura il gollo quando è entrato col Monza. Quindi sinceramente lo premierei quantomeno in una partita come questa in cui ti puoi permettere a distanza di pochi giorni dalla scorsa di mettere qualcun altro fra i freschi. Poi questa formazione è uguale. Avrei voluto avrei voluto essere in potere di potermi prendere in giro e mettere Raspadori titolare ma anche nei miei sogni anche nelle mie fantasie è arrivata una voce che ha hit mali va a metter su Raspadori. E quindi io ho messo Lukaku. Vabbè ci sta. Io invece ho fatto una formazione del genere con Caprile, Buongiorno e Rafa Marin, Di Lorenzo e Spinazzola dall'altra parte. Per fare questa linea difensiva ho pensato Spinazzola comunque l'ultima presenza l'ha fatto col Palermo e anche Rafa Marin. Quindi comunque c'è stata una settimana di riposo quindi stanno freschi in teoria. Mi piacerebbe vedere Rafa Marin insieme a Buongiorno e quindi fare anche quello che fa Rachmani. Quindi il difensore di supporto e non essere il perno della difesa. E poi Spinazzola sinceramente lo vorrei sfruttare di più siccome sembra in forma, sembra essere ritornato in forma. Quindi mi piacerebbe metterlo. Gilmour e McTominay io li vado a mettere in coppia, la coppia scozzese. Perché Gilmour per me deve avere una possibilità. Scott lo metto in questa posizione così poi davanti posso mettere Raspadori e Lukaku. Neres e Kvara. Ti piace questa affermazione? Non male, non male. A me Spinazzola dispiace soltanto il fatto che durando veramente poco il ragazzo, tipo 30 minuti, si brucia subito se lo metti di tolare. L'unica cosa che mi sta preoccupando di lui. Però quando è in forma? Lo sfrutti nel primo tempo, magari passi in vantaggio e poi nel secondo tempo. Tanto c'hai 5 campi, sempre quella cosa dei 5 campi che poi nessuno li utilizza veramente tutti quanti. E quindi io darei pure la possibilità a Neres di partire da titolare anche in campionato. Perché non esiste che non abbia ancora debuttato da titolare in campionato. Raspadori secondo me ci sta. Perché il lavoro che deve fare vicino a Lukaku, che Lukaku si prende l'attenzione e Raspadori ronza attorno. Cioè secondo me è proprio devastante, è una coppia devastante che può fare proprio bene, quindi io ci credo. E tra parenti non li abbiamo visti ancora insieme, Rasp e Lukaku. E poi vabbè, guarda che parla fa. Quindi per me questa formazione è un mix tra quelli che hanno giocato col Palermo e quelli che hanno giocato in campionato contro... Il Monza. Quindi mi piacerebbe fare questo mix anche per una questione di energia. Perché rimettere un'altra volta tutta la stessa formazione che ha giocato col Monza... È ovvio che magari ci sta qualcuno che deve ancora recuperare al 100%. Però probabilmente Antonio si fiderà ancora dell'11 titolare che ha utilizzato col Monza e ci sta. Risultato esatto? Ma cosa ha visto Cudrone? Vabbè vinciamo noi. Ma è finito questo Cudrone, parla del Mono, del Tomo. Ma tu non hai idea, ma il Twitter calcio è impazzito per questo Cudrone che muovono al Maradona e fanno a tripletto. Ma che... Patrick. Tifosi del Napoli, state calmi. Mi ha fatto vengere due giornate di fantacalcio, Patrick. Allora, tifosi del Napoli, devo richiamare la vostra attenzione. A Cudrone lo chiamavano, il nuovo Pippo Inzaghi, a Sivi Canne, non Mo. Mo è passato. L'ho presa a uno. Ma sta giocando bene Cudrone, ma sposta di mano. Quando vengiamo a 3-1, il gol lo fa certamente Quara. Facciamo fare una doppietta a Lukaku, così mi posso anche perdonare di non averlo messo mentalmente titolare nella mia formazione predefinita. E il gol del Tomo invece è di Van der Breemt. Allora, io invece ti dico per l'ennesima volta, Napoli farà clean sheet, non segnerà nessuno e vinceremo 3-0. Gol di Lukaku, Scott McTominay, che prima o poi deve segnare anche in campionato. E ti dico, qui c'è la Quaratschelia, perché non vuole togliersi il biglietto del gol in questa inizio di stagione, quindi ci sta. Allora, io direi che questo video può terminare qui. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. E anche la formazione, il risultato esatto, chi schierereste. Condividete il video che ci aiutate a crescere come canale. E forza Napoli sempre, bye you.